Siamo registrati in carne in pina, solo perché era rimasta lì e c'eravamo scordati di tanto. Quali giorni avevo avuto un po' di una decennia, non c'è stata registrazione. E' un po' di una decennia, non c'è stata registrazione, non c'è stata registrazione, non c'è stata registrazione, non c'è stata registrazione. E' un po' di un po' di un periodo di tempo e da un po' di un po' di ragazza. Sì, sì, che c'è stata registrazione. Qualcuno ha interessato a Roma per vedere come potreuvo fare. ...praticamente non cidete di cercare. preferente eh? preferente eh? preferente preferente se lo voglio dire posso anche prendere il caso con Piramato che era una strozzata e un generico uscito da un anno noi stiamo ancora lì no? perché il giorno che ci viene a morire un po' di te poi la cosa che ho fatto è che la stessa di pagare sempre a casa non dice che sono andato la faccia del colatore abbiamo fatto salvo per lavoro un po' di sceglie un po' di sceglie un po' di fiori adesso proprio non neanche perché io non posso nemmeno dire se è quello di bottiglia perché la cosa che mi dice mi dice però c'è stato un ingresso però io ho ancora la cosa signore e signori un nome di Alitalia aperto di Sky Team vi diamo il benvenuto a Milano-Linate dove sono le 15 o 15 minuti per garantire la vostra sicurezza vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso non verrà spento via mantenere i telefoni cellulari disattivati fino alla persona delle porte vi invitiamo infine ad aprile per evitare la stagione di gente grazie signor ciao 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 I'm all going to command you to open the overhead lockers care for each result, stay forward, thank you. Yuck!